Un buon pomeriggio qui dal campo rugby Totti Patrignani di Pesaro sotto una gran bufera che sta colpendo Pesaro di Marche. Oggi si sfidano per la prima partita del 2023, l'ultima della partita del girone d'andata. Civita Vecchia contro la Fiorini Pesaro Rugby, Civita Vecchia che viene da una vittoria contro Villa Panfili, Pesaro che viene da una vittoria contro Napoli, quindi tutti e due in un buono stato di forma. Allenatori che hanno confermato questo stato di forma e vogliono sicuramente continuare su questa striscia. Sono qua in compagnia con il mio compagno Mattia Bonacoscia e voglio chiederti cosa pensi di questa partita, cosa potrebbe succedere e un po' tutte le dinamiche. Buon pomeriggio a tutti, la partita sarà sicuramente intensa, le condizioni climatiche renderanno davvero difficile la partita, la differenza la farà sicuramente il carattere, chi avrà la testa della lucidità di andare avanti e non fermarsi farà sicuramente la differenza oggi pomeriggio. Intanto vi leggo le formazioni, partiamo dai padroni di casa. In prima linea Leva, Stefanini, Franco, le seconde linee Venturini, Caroli, terze linee con Tontini, Villarosa, Antonelli, Villarosa capitano, Mediana, Boccarossa, Giubert, Ali, Nardini, Larshardt, poi i centri giocheranno Erbolini, Paletta, Estremo, Stura. Disposizione di Paolo Panzieri, Bartolomei, Acerra, Dal Pozzo, Jauari, Aschua, Cardellini, Venturini, Gabriele, De Angelis, Villa Panfili che invece inizia con Ticchetti, Nocchi, Moreno, la prima linea Fraticelli, Carparelli, poi Auriemma, Asoli, Onofri, poi Finizio, Scaringella, Vender, Zorbio, Bianco, Di Gianmarco, Beltramino e poi a disposizione Guarise, Centracchio, Manuelli, Nastasi, Olivieri, Orchi e Carabella. Queste le formazioni delle due squadre, subito ci parte con una mischia, molto probabilmente un in avanti da parte di Pesaro e subito quindi si testimonia il fatto che la palla scivolerà tanto quest'oggi e vedremo molto spesso queste situazioni di gioco. Sì esatto, dopo il primo calcio di inizio da parte di Giubert c'è un avanti pesarese e poi un avanti di Civitavecchia, si rinizierà con una mischia per Civitavecchia poco fuori dei 22 del Civitavecchia. Prima mischia della partita vedremo subito come si presenteranno le due squadre in questo incontro, l'arbitro fischia, cadono le prime linee di Pesaro e quindi l'arbitro giustamente fischia calcio di punizione a favore di Civitavecchia, non subito un bel inizio in mischia, bisogna subito riprendersi, ora Civitavecchia avrà la possibilità di andare avanti, conquistare un po' di terreno e cercare di avanzare. Tusch che adesso assisteremo, vedremo subito se Civitavecchia riuscirà a tenere la palla o se magari la perderanno, ovviamente la palla scivola tanto, potrebbe andare in avanti o magari tenerla, infatti scivolano quelli di Civitavecchia, un buon placcazzo di Franco, subito determinante, Civitavecchia che prova a ripartire, prova ad andare a spingere, guadagna tanto terreno, avanzano, ma c'è l'avanti e subito altra mischia, qui Civitavecchia un po' in difficoltà nella Tusch che scivolano, riescono a tenere la palla con difficoltà, poi fanno un avanti e subito si vede appunto che questa partita la vedremo molto spesso, vedremo molto spesso queste situazioni di gioco. Sì, come abbiamo visto, pallone difficile da tenere, soprattutto nella messa a disposizione a terra, sarà una partita veramente difficile sotto questo punto di vista, ora riprendiamo con una mischia pesarese in cui speriamo che le prime linee di Pesaro riescono a mantenere alta la mischia e la palla riesca a uscire e arrivi un buon pallone a Giubert che inizia a giocare con i suoi tre quarti. Esattamente, anche Paolo Panzieri aveva sottolineato in un'intervista che ha una buona mischia, Civitavecchia, bisognerebbe puntare sui tre quarti, infatti qui Stura che prova a calciare in avanti, sale Pesaro a prova, con Nardini che placca molto bene qui la salita di Pesaro, adesso bisogna riprendersi, la palla che esce dalla RAC, arbitro che fischia, non si è ben capito l'arbitro ancora, ha dato un avanti, si riprenderà per la terza volta, una mischia, avanti molto probabilmente da parte di Pesaro. Sì, una mischia a succedere da Mecchia sui loro 5-20. Sarebbe molto importante adesso per Pesaro provare a recuperare la palla, per cercare che sarebbe una buona possibilità in questa zona di campo andare e conquistare terreno. Ovviamente sappiamo la mischia di Civitavecchia che è molto forte fisicamente e si è visto anche nella prima mischia, tiene momentaneamente la mischia di peso, l'arbitro che però fischia, che bisogna ripetere, molto probabilmente i piloni non si sono legati molto bene e quindi l'arbitro giustamente rifischia e si ripartirà per la mischia. Arbitro che si confronta con le prime linee subito per stabilire i giusti punti di riferimento e far capire come vuole questa partita. Come abbiamo visto ha fatto spostare la mischia di due metri e speriamo che il terreno sia un attimo un po' più rigido e permetta alla mischia di consentire una buona eseguita e far uscire la palla correttamente. Sì, sicuramente oggi il terreno è molto complicato, vediamo infatti che c'è tanto fango, intanto qui Pesaro che fa una buona mischia, Civitavecchia che deve cercare di tenere la palla, bisogna guadagnare abbastanza il terreno, però la palla casca in avanti e allora bisogna ripartire, paletta che va, paletta che va, taglia il campo per la short che la prende ma l'arbitro è avanti, c'era un vantaggio da parte di Pesaro, questa è stata una buona salita difensiva, questa è la giusta intensità che bisogna avere e bisogna subito far capire Civitavecchia come si vogliono impostare le cose. Sì, un'ottima azione, abbiamo visto Pesaro portare palla, purtroppo non siamo riusciti a concludere, ora ripartiremo con una mischia a favore di Pesaro, speriamo di una buona spinta e speriamo di finalizzare questa azione. Sarebbe importante subito trovare una meta a inizio partita, subito per mettere in pressione gli ospiti che quest'anno ancora non hanno mai vinto una partita fuori casa, allenatore del Civitavecchia che vuole provare a vincere, anche se comunque consapevole delle difficoltà di questa partita perché Pesaro viene da due vittorie di fila contro Perugia e Napoli, vogliono cercare di tenere il ritmo delle prime, perlomeno di Avezzano che li ha scavalcati nello scontro diretto perso, 25 a 0 appunto ad Avezzano. Qui esce la palla molto bene, tagliano, paletta, guadagna terreno, Rack punto di incontro, si riparte, si segue ancora il senso di gioco, Giuberti che prova a calciare per l'Arscharte, la palla però termina fuori e si riparte dal punto, bisogna, dai 22 adesso, Civitavecchia che prova a giocare veloce, bisogna riorganizzarsi però, Civitavecchia che gestisce. Sì, un'ottima idea di Giuberti, provare un calcetto, una situazione in 3 contro 4, ha provato a finalizzare, ora avremo il Civitavecchia che riprenderà con un calcio a 22, la formazione pesarese ha avuto il tempo di schierarsi, adesso è un attimo tempo fermo per un infortuno a Richard Pareta, il centro arrivato da Reggio Emilia nella formazione pesarese. Sì, Pareta che aveva giocato a Pesaro anche prima di andare a Reggio Emilia, nelle giovani, si è aperto adesso, si è infortunato, gioco fermo, adesso si farà un attimo medicare, molto probabilmente quando è entrato nel contatto avrà preso una testata, si è aperto subito, non bene questo inizio per lui, adesso entra il giovane Venturini che lo dovrà un attimo sostituire, vedremo come si posizioneranno, se Venturini andrà centro o sposterà Nardini, penso andrà Venturini centro, adesso Paletto si deve cercare di medicare per poi rientrare il più veloce possibile in campo e adesso si ripartirà dal calcio di 22 dopo che la palla era terminata sul fondo. Sì, è entrato Gabriele Venturini che andrà a fiancare nella 15 pesarese, è il fratello Leonardo Venturini, ormai una garanzia per la nostra formazione pesarese. Problemi anche nella panchina di Civitavecchia, vedo che anche uno dei loro si sta medicando, quindi preparatore atletico Jacopo Terenzi che comunica ai suoi giocatori di tenersi caldi, temperature molto fredde, 3 gradi stimati quest'oggi, sicuramente più si sta in movimento meglio e se no si rischia di prendere freddo e anche infortunarsi ai muscoli che potrebbero risentirne. Adesso anche il 12 sostituito dal numero 22 Olivieri al posto di Bianco. Un po' di problemi sia da una parte sia dall'altra, infortuni. Vediamo adesso l'arbitro che ricomincia subito. Ecco, un buon drop lungo, adesso è il nostro centro, il nostro estremo, scusate, a recuperare palla e partire con un up and under che porterà pressione sicuramente insieme all'ala Rarashert. Qui bellissimo il placaggio, bellissimo all'avanzata, Civitavecchia un po' in difficoltà qua dietro che risente della salita di Pesaro e infatti calcio di punizione importantissimo e adesso ti chiedo anche un tuo parere che giochi 10, cosa faresti in questo caso? Giuberto ha deciso, calcio in mezzo di palio. Sì, sicuramente è una scelta giustissima, visto che giocare alla mano con queste condizioni climatiche è sicuramente più difficile, è meglio andare a prendere subito tre punti e lasciare Civitavecchia indietro e sotto pressione, tanto rinizieremo comunque con un calcio d'inizio che ci darà palla e avremo la possibilità subito di riattaccare. Subito, importanti questi tre punti, bisogna realizzarli però prima, sicuramente iniziare dopo poco tempo 3-0, Civitavecchia che già in difficoltà in questo inizio di partita ha tre punti, potrebbero influire molto sulla morale di Civitavecchia. Adesso calcio e rigoroso silenzio per il calciatore. Schubert, che sappiamo una garanzia nei calci, difficilmente sbaglia, vedremo se anche stavolta non sbaglierà. La concentrazione, la realizzazione di Schubert che mette subito segno, tre punti, 3-0 per Pesero in questo inizio di partita, importantissimi questi punti che si iniziano piano piano per cercare di vincere questa partita che Pesero deve assolutamente vincere e Civitavecchia vorrà fare la stessa cosa ma abbiamo visto in questo inizio di partita che Pesero ha avuto la meglio. Sì, sicuramente un ottimo calcio che farà la differenza. Adesso vediamo il tallonatore Stefanini posizionarsi dietro a seconda linea, Leonardo Venturini, pronti a ricevere il calcio d'inizio. Intanto riesce Gabriele Venturini e rientra al riso per paletta che si è fatto medicare. Risolto i problemi con il sangue, si può tornare tranquillamente in campo. Verso calcio, bisogna prendere la palla al volo, non bisogna farla cascare. Attacca Tontini, prova ad andare, punta tutti, bellissima l'avanzata, guadagna tanto terreno importante. Leva che va, prova a muoverla per paletta, viene placcato però, fermo lì, si riparte da un punto di incontro. Boccarossa che vuole però andare con calma, molto probabilmente ha un calcio dal box. O passaggio per Giubert, passaggio per Giubert che va a calciare per provare a spazzarla via. Ora Civita Vecchia che ha la possibilità di riattaccare, vedremo se calceranno, attaccheranno, calceranno. Bisogna prenderla questa palla al volo, la riesce a prendere Boccarossa, l'arbitro che fischia. Fuori gioco da parte di Civita Vecchia, vuol dire partire avanti al calciatore. Giustamente l'arbitro fischia, lo vede e quindi calcio di punizione per andare il più lontano possibile. Sì, sicuramente gli errori che abbiamo visto fanno la differenza. Adesso è un'ottima occasione per Giubert per cercare una buona tusce e dare la possibilità alla mischia pesarese. di fare il loro. Giubert per cercare di mandare il più lontano possibile, per andare in tusce, il più lontano possibile, guadagnare tanto terreno ed è quello che fa con un bellissimo calcio. Ripartiremo con una tusce a favore di Pesaro, la prima a favore di Pesaro. Dopo che la prima della partita era stata a favore di Civita Vecchia, non è andata benissimo dal canto loro. Vediamo se Pesaro invece riuscirà a fare il contrario, a tenere questa palla e provare a muoverla a largo e guadagnare terreno importante. Tusce ridotta, ci sarà una tusce a 5, non è una tusce completa. Giacano veloci, Antonelli bellissima la tusce. Adesso prova ad andare, entrano Franco e Tontini, bellissimo. Franco guadagna tantissimo terreno, rompe il placcaggio, buon terreno guadagnato. Il passaggio, bellissimo. E Sura non tiene la palla, molto sfortunato qui. Attenzione qui, che riesce a ripartire molto bene. Calcio dove non c'è nessuno dietro qua a Pesaro. Giubert che corre per riprendere la palla. Lillo che non... E prova Lillo ad andare. Arbitro che fischia, la palla è tenuta. Un po' sei isolato, forse non proprio intelligente qui. Doveva provare a calzare o spostarla prima. Civitavecchia che adesso ha un calcio di punizione per decidere se andrà ai pali o magari provare in tusce e sorpassare Pesaro. Sì, come abbiamo visto, l'arbitro ha segnato un calcio di punizione. Dopo il giocatore pesarese, Tontini, ha buttato la palla indietro e l'arbitro ha segnato altri dieci metri in avanti. Sicuramente è stato un errore veramente importante perché dai dieci metri in cui l'arbitro aveva segnato il fallo non so se il numero quindici di Civitavecchia sarebbe riuscito ad andare per i pali. Invece ora ha deciso di andare per la trasformazione. Adesso calcio in mezzo di pali? Civitavecchia che proverà a pareggiare i conti, tornare sul 3-3. Sicuramente qui ci sono stati un po' di errori da parte di Pesaro qua dopo questo calcio. Dagli errori però si dice che si può anche soltanto imparare. Vedremo se in questa partita Pesaro capirà che magari queste cose è meglio evitarle per cercare di ridurre i falli. Vedendo qui arriva il calcio, realizza, 3-3, Pesaro 3, Civitavecchia 3. Si ripartirà con un drop da metà campo a favore di Pesaro subito per cercare di risalire, subito per cercare di riprendere il pallone. Tre punti che sono pesanti perché Pesaro stava giocando meglio e adesso loro hanno attaccato poco però hanno finalizzato subito e bisogna considerare anche queste cose. Sì, un'ottima trasformazione sicuramente che è molto importante portarsi sul pareggio per l'argentino e l'estremo Beltramino, molto importante. Ora vediamo a riniziare con un calcio di inizio. Civitavecchia che sposta la palla e decisi subito di uscire. Palla toccata. Stefanini che riesce a stoppare molto bene la palla però qua un po' di incomprensione tra Villarosa e Boccarossa. Giubberti che prende la palla, prova ad attaccare, si isola un pochino, subito a spazzare i giocatori di Pesaro, bravi perché coprono bene il punto di incontro. Attacca Caroli, un po' placcato alto, si lamenta la panchina di Pesaro però fischia, fallo a favore di Civitavecchia. L'arbitro qua mi viene a dire che non ha visto il placaggio al collo, ha più visto il tenuto. la panchina di Pesaro che si lamenta, infatti, scelta magari non corretta ma molto probabilmente l'arbitro non l'ha visto, bisogna non incolparlo subito. Civitavecchia che va sul sicuro qui, non fa, visto anche prima, non calci troppo lunghi vuole essere più sicuro, fare dei calci corti per essere sicuro di tenere la palla Tuscia a 5 arbitro che ferma il tempo giocatore di Civitavecchia che si sta medicando, sta prendendo un po' di acqua arbitro che aspetta che Civitavecchia abbia risolto i problemi si riparte adesso di Tuscia a 5 per Civitavecchia è storta arbitro che vede l'avanti e non lo, non la, la Tuscia è storta fatto sta che comunque la palla sarà di Pesaro e si ripartirà da una mischia sì sicuramente ripartiamo da una mischia pesarese l'arbitro non ha visto il lancio storto è stato il guardarline a comunicarlo adesso c'è stato il cambio, un attimo non si ripartirà da una mischia ma si ripartirà da una Tuscia il tallonatore Stefanini classe 2003 ancora con possibilità di giocare nell'under 19 pesarese ormai da un anno una garanzia per i suoi 15 pesaresi lancerà la nostra Tuscia una Tuscia lanciata molto bene male il controllo da Antonelli che scarica i Giuberti e tira un up in under la pressione pesarese di Erbolini che porta pressione, porta pressione non c'è un velo ora Civitavecchia che riporta palla e Rama, Stura a ricevere subito è ricalzare, provare a risalire lasciate che corre, corre, corre la palla termina fuori, è fuori diretto si riparte dal punto questo non proprio un bel calcio peccato era importante guadagnare terreno non è stato così Civitavecchia che può ripartire dai 22 di Pesaro Mocca Rossa che intanto chiede delle spiegazioni all'arbitro riguardo un fallo precedente che appunto l'arbitro non ha molto probabilmente visto adesso altra Tuscia di Civitavecchia abbiamo visto due Tusci da parte di Civitavecchia una volta sono scivolati una volta è andata storta adesso vediamo se stavolta gli andrà bene si fermano tornano indietro e la palla casca è storta di nuovo Civitavecchia ha molti problemi in Tuscia il loro numero due il loro Talner molto in difficoltà in questo inizio di partita adesso arbitro che fischia ovviamente palla a favore di Pesaro si ripartirà da una mischia dai 22 bisogna subito uscire da questa situazione zona rossa meglio starci il meno possibile e andare subito a risalire il campo sì sicuramente è una zona in cui dobbiamo uscire vediamo il numero 13 posizionato Assal il numero 13 di Civitavecchia adesso la mischia che sta facendo fatica ma Bocaresa riesce a dare un pallone sporco a Giuberti che riusce a mandare via con un po' di difficoltà ora sempre i trequarti pesaresi a portare pressione ancora Beltramino con un up and under a portare pressione è il ricevimento e riesce a portarle indietro non è avanti è buono un palla per Civitavecchia qui Civitavecchia che riesce a riprendere la palla un po' di sfortuna ha rimbalzato Civitavecchia che comunque rimane nei 22 stanno alzando la pressione Civitavecchia sta iniziando a crescere in questa partita dopo un inizio difficile qui bravissimi Civitavecchia che riescono a saltare l'uomo Venturini che placca prova a spingere spinge ancora rotto il placcaggio Leva non lo riesce a chiudere inizia ad andare Civitavecchia muove verso il largo stanno spingendo è un 3 contro 1 2 contro 1 la muove fortunatamente per Pesaro fortunatamente perché era un 2 contro 1 veramente mangiato era una meta già fatta si ripartirà però dal vantaggio che era stato dato a favore di Civitavecchia si questa è stata una scelta veramente difficile da parte Ninardini una superiorità con 2 contro 1 ha deciso di portare pressione subito al portatore di palla effettuando un placcaggio che gli ha impedito di fare un buon passaggio ora riprenderemo con una punizione per un vantaggio a parte Civitavecchia sui 15 poco fuori dai 22 sentito le comunicazioni da parte dell'allenatore di Civitavecchia di andare in mezzo ai pali per passare in vantaggio vediamo che cosa deciderà numero 16 Bertamigno però penso sia più indirizzato ad andare verso la Tusch e vogliono puntare l'obiettivo grosso anche se comunque abbiamo visto che in Tusch Civitavecchia in questo momento non è andata proprio bene forse non la scelta migliore forse era meglio puntare a tre punti sicuri scelta loro scelta di campo vediamo se ripagherà questa scelta scomunicano i giocatori di Civitavecchia che sicuramente sanno anche loro del pericolo in cui stanno andando contro dopo le prime difficoltà avute Pesaro che dovrà fare una buona resistenza non bisogna prendere meta è importante in questi minuti difficili dove Civitavecchia ha alzato tanto il ritmo Tusch che stavolta invece viene bene da parte di Civitavecchia adesso si crea una molle provano a spingere li portano verso il fuori Mol che casca Mol che crolla buona difesa da parte di Pesaro molto bravi adesso si ripartirà con una nera prova ad andare buon placaggio da parte di Tautini che non lo fa avanzare vogliono andare con calma i giocatori di Civitavecchia vogliono gestire è ottima possiamo notare la pressione Pesaresi intorno al punto di incontro che porta pressione vediamo anche il placaggio subito portare a terra all'uomo e riescono a togliere sempre più metri alla pressione del Civitavecchia che punta a prendere i 5 punti per finalizzare molto spesso vediamo anche in questa situazione Antonelli che non riesce a placare Civitavecchia che appunto sottolinea il fatto della loro mischia molto forte però qui attenzione fallo buonissima la difesa da parte di Pesaro che riesce a recuperare la palla nonostante le difficoltà riescono a recuperare la palla e adesso si ripartirà da un calcio di punizione a favore di Pesaro e appunto sempre per andare il più lontano possibile e uscire da questa situazione che si era creata molto che era molto molto pericolosa dopo tanti minuti difficili in difesa Pesaro mostra davvero carattere a uscire da questa zona rossa dopo le ripetute insistenze del Civitavecchia ora è Giubert che trova un buon calcio in tusce all'altezza dei 10 metri della metà campo pesarese Stefanini che si reca a prendere la palla dal preparatore atletico Jacopo Terenzi si prepara a lanciare la sua tusce speriamo di una tusce pulita che riesca a portare fuori la palla per Giubert e vediamo dopo la decisione della linea tre quarti pesarese bisogna sicuramente tenere la palla perché ancora siamo nella metà campo pesarese Pesaro che sicuramente vuole starci il meno tempo possibile qui e provare ad andare avanti e avanzare la palla che arriva comunque a Franco che riesce ad avanzare porta avanti Pesaro una buona salita qui da parte del pilone argentino buono sostegno anche del capitano Carlo Villarosa ottimo sostegno vediamo il pacchetto di mischia pesarese subito vicino il sostegno ora Giubert a cercare un calcio 50-22 ben riuscito non trova il 50-22 ma riesce a trovare una buona tusce ottimo calcio teso sicuramente a mettere in difficoltà la linea del Civitavecchia un buon calcio che fa riavanzare terreno sicuramente si è usciti da una zona appunto pericolosissima adesso sarà importante tenere Civitavecchia lì provare a recuperare il pallone ora che loro saranno quelli sotto pressione si ritorna nella metà campo di Civitavecchia dopo tanto tempo dopo un po' di minuti in cui si era stati sempre in quella pesarese ora è importante cercare di sarebbe importante cercare di finalizzare fare una meta in questo 3-3 molto molto insidioso adesso tusce a parte Civitavecchia che la riescono a tenere con un po' non è vero pesaro riesce a recuperare la palla molto bene questo era importante bisognava fare questo adesso si prova ad andare bisogna accelerare adesso Erbolini che va viene placcato casca in avanti la palla adesso Civitavecchia che prova ad andare offload riesce ad avanzare comunque Civitavecchia peccato per quella avanti perché poteva essere un'azione molto 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 interessante adesso Civitavecchia che deve spazzare la palla non ce la fanno perché trova un po' di difficoltà il loro estremo Bertamigno ha buttato a terra Civitavecchia che riesce a far uscire la palla adesso il calcio un calcio sicuramente strategico un calcio una via di mezzo un calcio di posizione un calcio a portare indietro la linea pesarese trova una tusce il Civitavecchia poco prima della metà campo ora è Pesaro che rinizierà la sua azione sempre con il tallonatore Stefanini pronto a lanciare adesso si di nuovo tusce la parte di Pesaro si rimane lì a metà campo intanto possiamo sentire l'allenatore Paolo Panzieri dalla panchina che incita i suoi tre quarti a portare sostegno più vicino per non perdere la palla l'allenatore sottolinea passo e sostegno passo e sostegno sicuramente è una fondamentale del rugby il sostegno intanto qua se ho visto bene c'è stato un avanti da parte di Pesaro e infatti si ripartirà anzi la tusce era stata storta quindi si ripartirà con una mischia a favore di Civitavecchia peccato perché si è perso il possesso di palla era importante tenerlo intanto mentre la mischia si sta posizionando vediamo la panchina pesarese che è andata dentro l'area di meta a scaldarsi sicuramente il clima non è favorevole oggi adesso vediamo la mischia che purtroppo non tiene e l'arbitro farà ripetere sì abbiamo visto anche precedenza la mischia che non tiene il campo è molto infangato non è molto non tiene molto ci sono tante difficoltà in questo inizio di partita che ovviamente vedremo per tutta la partita tempo che fortunatamente sta un po' tenendo rispetto a questa mattina che ha piovuto davvero tanto sta un po' spioviginando comunque le condizioni non sono non sono ideali ma si gioca lo stesso tanto qua fallo a favore di Pesaro crollano le prime linee di Civita Vecchia e adesso subito per provare a risalire terreno e tornare nei loro 22 e fargli sentire la pressione sì ottima ottima punizione sulla metà campo adesso è sempre il nostro numero 10 sudafricano l'Alge Hubert che andrà a cercare una touche spero dentro la linea dei 22 ed è così è un'ottima touche che però viene tenuta dentro no il guardaline ha chiamato fuori l'Alge Hubert ha trovato veramente un'ottima touche a 7-10 metri dalla linea di meta del Civita Vecchia ora speriamo nel pacchetto di Miska che riesca a finalizzare questa ottima azione giocatore del Civita Vecchia che ci aveva provato a tenere questa palla dentro il campo non si è riuscito sfortunatamente per lui fortunatamente invece per Pesaro che è molto vicino alla meta e adesso ora che sei lì non bisogna sbagliare bisogna concretizzare questa questa touche e fare meta Stefanini che ha un compito molto importante adesso prima che è stata storta la touche adesso bisogna tenerla è un po' di difficoltà arbitro che però fischia avanti da parte di Civita Vecchia la palla rimane comunque di Pesaro quindi però si ripartirà questa volta da una mischia non da una touche sì abbiamo visto touche molto difficili sicuramente oggi la decisione di andare in touche è unicamente una decisione strategica per togliere terreno alla squadra avversaria visto che il lancio è sicuramente la presa in aria risulta molto difficile adesso vediamo una mischia sempre sui 5-10 metri dalla linea di meta del Civita Vecchia speriamo in Pesaro una buona spinta e speriamo nei tre quarti pesaresi in una buona giocata adesso vediamo questa mischia prima mischia dominante l'ultima che c'è stata vediamo se sarà la stessa cosa anche adesso Civita Vecchia che spinge Boccarossa riesce a tirar fuori la palla adesso si prova ad andare Stura che viene placcato molto bene da parte di Civita Vecchia Civita Vecchia che mette le mani in rack la palla che fallo arbitro fischia fallo a favore di Pesaro bisogna avere calma adesso vediamo che cosa deciderà Giubert se andrà a andare in mezzo ai pali e fare altri tre punti ed è quello che infatti succederà calci in mezzo ai pali per cercare di tornare in vantaggio non si rischia pochi punti ma comunque efficaci sì sicuramente è una scelta strategica perché i tre punti oggi possono fare veramente la differenza con queste condizioni climatiche una punizione davanti ai pali praticamente adesso sarà il nostro 10 Giubert andare a trasformare comunque il pacchetto pesarese non deve abbassare l'attenzione perché comunque è gioco qualora il numero 10 Giubert prenda un palo la formazione pesarese deve essere subito pronta a reagire adesso appunto Giubert che si prepara al calcio nel mezzo ai pali per portare in vantaggio la sua squadra e andare sul risultato di 6 a 3 prende la rincorsa breve calcio oggettivamente molto facile difficilmente sbagliare da lì e adesso pesa un ritorno in vantaggio 6 a 3 importante giusto importante era di concretizzare quello che c'è stato ovviamente non era il punto grosso però comunque sono sempre tre punti importanti e adesso si ripartirà appunto da un drop in mezzo al campo da parte di Civitavecchia Pesaro cavrà la palla e sicuramente dovrà appunto dopo subito riuscire da quella dei 22 si ecco si prepara l'estremo bel tramino l'argentino del Civitavecchia a impostare il drop d'inizio vediamo il pacchetto di Pesaro la mischia è pronta a ricevere ecco pronti Tontini Giacomo tuo fratello a ricevere palla riceve molto bene la scarica subito a Stura all'estremo pesarese che effettua un calcio dentro la metà campo del Civitavecchia ora il Civitavecchia riattaccare bravissimo lì Tontini infatti che è stato molto bravo a tenere la palla poi a spostare per Stura qui gioca veloce bocca rossa intanto dopo un fallo fischiato a favore di Pesaro prova ad andare Paletta che va corre Paletta prova a puntare tutti Paletta se ne va in mezzo a tutti viene fermato però guadagna però tanto terreno buona l'intesa bocca rossa e intercetto prova ad andare Tontini che però è più veloce di tutti va a recuperare la palla si tuffa con un gran tuffo bravissimo Tontini che fa una grandissima cosa riesce a tenere la palla molto bene la pasta per Giubbert che fa un grandissimo calcio però comunque palla che rimane in campo Civitavecchia che prova a risistemarsi la ricalzan subito via dove c'è nelle zone di Giubbert che non chiama il Mark decide di aspettare con calma nessuno sale prende il suo tempo e calcia con tranquillità di nuovo palla per Civitavecchia è un po' un ping pong in questo momento tutte e due vogliono ottenere la palla dall'altra parte del campo sicuramente gioco spezzato adesso è un gioco al piede vedremo chi farà la differenza adesso Civitavecchia di nuovo con Beltramino che decide di attaccare ripeto un ottimo lavoro prima nell'azione precedente di Tontini che recupera un'ottima palla e riesce a dare un gran pallone a Giubbert veramente ottimo lavoro del flanker pesarese classe 2002 anche lui ormai due anni che nella formazione della serie A pesarese e intanto qui fallo a favore di Pesaro un in avanti da parte di Civitavecchia che adesso ripartirà da una mischia dopo un'azione abbastanza lunga dopo una serie di calci e una serie di corse arbitro che ferma il tempo giocatore di Civitavecchia fermo per terra molto probabilmente ha subito un colpo molto duro e adesso aspetta aspetta i medici che arrivino per soccorrerlo dopo un po' di problemi che adesso in questo momento ha sì esatto adesso mentre il ragazzo di Civitavecchia sta cercando di capire cosa è successo vediamo il pacchetto di mischia pesarese che sta facendo sta comunicando tra di loro per sistemare un attimo gli handicap di questa partita abbiamo visto Pesaro che dopo quei minuti fatti in difesa si è un po' ripreso ha iniziato a riattaccare ha subito rimesso pressione ed è giusto così Pesaro deve far capire chi comanda in casa nessuno deve oltrepassarli ed è giusto così adesso si ripartirà tempo che riprende si ripartirà appunto da una mischia a favore di Pesaro abbiamo visto mischie le ultime abbastanza equilibrate nessuna squadra che domina vediamo se continuerà così o se qualcuna dominerà sull'altra Giubert comunica la giocata sui centri per provare a guadagnare terreno e mettere in difficoltà la linea dei tre quarti di Civitavecchia la palla che esce arbitro che però fischia ancora problemi in prima linea non è la prima volta che vediamo questo tipo di situazione dove le prime linee cascano che crollano arbitro che fischia che ferma il tempo mi sa che vuole parlare con qualcuno col capitano di Civitavecchia come abbiamo visto cade il pilone sinistro del Civitavecchia è stato il guardalinea dal lato della tribuna di Pesaro a segnalare la caduta del pilone ora si riprenderà di nuovo con un calcio da parte del Pesaro è sempre Giubert che andrà a cercare una tush una buona mischia da parte di Pesaro Giubert che copre va ad andare lontano ma non riesce a mandarla fuori peccato perché prima li era sempre venuto adesso Civitavecchia può ripartire può andare in avanti però grandissimo placcaggio di leva bisogna non fare falli come dice l'allenatore Pansieri importante tenerli lì buoni buon placcaggio da parte di Pesaro che li tengono lì Civitavecchia fa difficoltà di uscire prova ad andare Civitavecchia sta preparando a organizzarsi per un'uscita ora vediamo il loro giocatore che fa terreno e ora è di nuovo Pesaro una buona tenuta in rack che riesce a prendere un calcio in punizione adesso vedremo la scelta di Pesaro molto probabilmente qua adesso si andrà per i pali per incrementare il risultato e infatti è così Giubert prenderà la decisione di andare ai pali per provare a fare un 9 a 3 molto importante Pesaro molto molto incisivo adesso Civitavecchia un po' in difficoltà e lo stiamo vedendo in questi ultimi minuti abbiamo visto quanto la pressione faccia la differenza in questa giornata così di pioggia abbiamo visto il pilone Giacomo Leva portare pressione effettuare un placaggio e tenere l'uomo all'interno dei 22 ora abbiamo visto l'allenatore Paolo Panzieri recarsi a bordo campo e incitare i suoi ragazzi e complimentarsi del lavoro fatto finora adesso appunto calcio in mezzo ai pali per incrementare il vantaggio e andare sul 9 a 3 Giubert che si prepara e lo realizza il calcio 9 a 3 un più 6 importante e Civitavecchia in questi ultimi minuti sta facendo un po' di difficoltà adesso che mancheranno anche pochi minuti 8 minuti alla fine del primo tempo Civitavecchia avrà bisogno un attimo di risistemarsi dopo che aveva fatto dei buoni minuti in attacco adesso un po' più in difficoltà in difesa che perdono tanti palloni tanto viene calciata la palla per i giocatori di Civitavecchia che manca si verrà si verrà sempre l'estremo bel tramino l'argentino provare di organizzare la sua linea e portare una gran pressione nelle calce d'inizio calcio chiama Venturini che viene placcato però comunque riesce a tenere la palla era questo l'importante mette le mani e qui Civitavecchia molto molto bene placcato e poi subito sostegno in difesa che recupera la palla e intanto fermo il tempo un'altra volta ancora la pressione che fa la differenza abbiamo visto l'ala a destra del Civitavecchia portare una gran pressione sul seconda linea Leonardo Venturini effettuare un gran placcaggio e subito il sostegno del Civitavecchia a fare un tenuto ora vediamo il pilone Giacomo Leva a terra e la dottoressa che gli sta mettendo del ghiaggio sulla spalla destra speriamo non sia niente di grave dato che sta facendo una grandissima partita Venturini si che aveva fatto una bella presa al volo soltanto che mancava il sostegno peccato adesso Civitavecchia ripartirà da un calcio in mezzo ai pali per cercare appunto di accorciare le distanze ci andrebbe sul risotto di 9-6 anche se comunque abbiamo visto che con la pioggia il vento i calci non sono sempre molto perfetti e anche il calcio all'inizio da parte di Beltramino non era stato proprio eccezionale ma comunque era stato efficace vediamo se sarà efficace ancora una volta o se invece si rivelerà il contrario vediamo il 15 pesarese che comunque nonostante attende non è mai fermo le temperature non sono sicuramente favorevoli a giocare questa partita questa volta il calcio è ben realizzato è molto bello e Civitavecchia accorcia le distanze sul risultato di 9-6 dopo un buon recupero di palla e adesso Pesaro bisogna andare su bisogna andare bisogna recuperare subito la palla quando manca poco alla fine del primo tempo 6 minuti sali sale tanto Pesaro l'Archart bellissimo il placcazzo lo tiene lì non si fa non si fa sfondare è molto bravo perché porta su la difesa di Pesaro bisogna tenerli lì bisogna tenerli lì Civitavecchia che adesso qua però avanza per un po' di metri importanti si continua così si prova ad andare ancora dentro bello il placcaggio di raddoppiato prova a giocare veloce adesso Civitavecchia in superiorità numerica l'offload la palla che però casca c'è un avanti la palla è di Pesaro vantaggio da parte di Pesaro arbitro che fischia non è vantaggio conseguito si ripartirà da una mischia per Pesaro dopo un avanti da parte di Civitavecchia bisognava tenerli lì ed è stato così si un gioco un attimo frammentato è stato veramente tanto contatto fisico in questa ripresa dopo un calcio di inizio ora è una punizione a parte di Pesaro no scusate una mischia a parte di Pesaro adesso vediamo l'arbitro che ferma al tempo e la dottoressa che va di nuovo dal dall'estremo no scusate dal centro Erbolini adesso stavolta anche Erbolini che si fa medicare anche lui per sangue problemi alla testa con l'insangue rientra Venturini prima sostituisce a paletta ora sostituisce Erbolini cambio temporaneo ovviamente si ripartirà adesso da da una mischia a favore di Pesaro abbiamo visto tante botte in questo primo tempo tanti infortuni temporanei pur sempre così fortunatamente non infortuni gravi ma comunque si stanno tirando tante legnate diciamo si è entrato di nuovo per un cambio temporaneo il classe 2003 Gabriele Venturini posizionato in posizione secondo centro importante questa mischia perché siamo vicino alle linee di meta e manca poco alla fine del primo tempo concludere il primo tempo con una meta sarebbe molto importante per il morale pesarese si lamentano le prime linee ancora una volta un po' di problemi un po' di discussioni adesso sicuramente un po' di problemi tra le prime linee sale la pressione anche ritorna insistente la pioggia bisogna stare concentrati e tenere alto il livello pioggia si di nuovo battente adesso in questa fine del primo tempo leva che ha avuto un po' di problemi adesso qui nella legatura in mischia vediamo se ne avrà problemi anche con la spinta speriamo di no ovviamente la palla che riesce ad uscire con un po' di difficoltà manca la palla la palla che casca avanti da parte di Pesaro un abito che non ha dato il vantaggio mischia da parte di Civitavecchia questo è un errore ovviamente influenzato anche dalle condizioni climatiche non bisognerebbe trovare alibi però bisogna anche sottolineare questa cosa si come ho detto a Piazza sta continuando a insistere il campo continua sempre di più a deformarsi bisogna che la mediana pesarese Boccarossa e Giuberte iniziano ad accorciare le distanze e facilitare così il passaggio e l'uscita dalla mischia si bisognerebbe cercare di trovare un compromesso in questa situazione difficile per cercare di facilitare ovviamente la linea dei tre quarti che abbiamo visto ben messa in campo ora sarà la palla a favore di Civitavecchia mischia che spinge tanto rimane lì riesce ad uscire Civitavecchia il calcio per provare ad andare su importante è Stura a tenerla riesce a tenerla la calza subito per far salire i suoi un po' di problemi la rischia che riesce a salire calcio dove c'è Giubert però che calza riesce a mandarla fuori è un calcio molto buono che si ferma a caso di una postangra ma comunque la palla è fuori il guardalinea lo vede ed è un bellissimo calcio da parte di Giubert altra volta calcio molto intelligente e ben utilizzato sì ottimo il calcio di Giubert che poteva prendere secondo me dal mio punto di vista un altro po' più di tempo e cercare un calcio ancora più lungo è stata ottima la scelta l'importante è che il Pesaro continua a insistere dentro la metà campo del Civitavecchia portare pressione e ora è arrivato il momento di finalizzare però che alzi la testa a tutti i ragazzi del pacchetto dei 15 pesarese appunto come dicevo anche prima in questi minuti finali sarebbe importantissimo fare una meta ora però parla che di Civitavecchia anche se comunque Civitavecchia ha un po' di problemi in questa tusce ma riesce comunque a tenere la palla Civitavecchia che prova a rimanere lì vicino fanno le cose semplici passaggi molto corti non vogliono rischiare di perdere la palla ed è giusto così prova avanza un po' prende un po' di metri Civitavecchia anche se pochi prova prendi via la parte dei giocatori di Civitavecchia adesso prova ad accelerare abbiamo visto molto spesso che utilizzano poco il pallone anche in situazioni difficili provano a giocare sempre la mano qui bravissimo avanzano avanzano molto in questo momento erano le 22 adesso sono a metà a metà campo bravi brava la squadra di Civitavecchia sta facendo una buona partita in questo momento non c'è alcune difficoltà avute durante la partita ma sempre sul pezzo sempre con la giusta concentrazione Pesaro che però comunque sta facendo una buona partita e adesso si decide di mandare la palla fuori per l'intervallo e ci si rivedrà nel secondo tempo risultato di 9 a 6 a favore di Pesaro di nuovo qui per il secondo tempo a Pesaro risultato che sta sul 9 a 6 a favore di Pesaro abbiamo visto una partita molto equilibrata molto combattuta nessuna delle due squadre che domina sull'altra si va a momenti però comunque si è in un risultato di equilibrio 9 a 6 adesso vediamo in questo secondo tempo condizioni climatiche rispetto al primo molto molto brutte e peggio si ora è l'estremo Santino a recuperare il pallone in scivolata e a provare subito a calciare non un ottimo calcio in tusce dato che la palla esce diretta e il calciatore ha calciato fuori dai 22 ora si ripartirà da una tusce nei 22 da parte di Civitavecchia che è subito lì subito a mettere pressione non un buon inizio di tempo da parte di Pesaro vediamo se adesso comunque riusciranno a recuperare la palla bravo Tontini qui che calcia lo stop quasi da calciatore calcio per se stesso Nardo che prende la palla riesce a tenere la palla riesce ad avanzare Boca che fa uscire la palla per Giubert che calcia in mezzo al campo dove però c'è Civitavecchia che può recuperare e andare subito in avanti palla che va fuori vediamo da parte di chi però perché non si è ben capito Giubert l'ha toccata però devo capire se l'ha toccata dentro o fuori si sa che tusce a favore tusce a favore di Pesaro vuol dire che la palla era già uscita nel momento in cui Giubert l'aveva toccata ora tusce di nuovo dai 22 da parte di Pesaro con Stefanini incaricato a questa tusce Venturini che non riesce a tenere la palla in mezzo alle mani e adesso c'è Civitavecchia che può ripartire può andare può attaccare per andare verso il largo calcio dove però Sestura che riesce a tenere la palla con un po' di difficoltà ma comunque la riesce a tenere bisogna adesso andare un po' con calma e non rischiare anche se qui la palla casca calcio di Giubert per spazzare un po' tante difficoltà in questo inizio di tempo Pesaro non è entrato affatto bene Civitavecchia è entrato con un altro ritmo Civitavecchia che decide di giocare subito e smuovere la palla fuori ha una netta superiorità ora è l'uomo di mischia del Civitavecchia di Roma a rientrare e formare la racca davanti ai pali Civitavecchia molto agguerrito in questa prima parte di secondo tempo si abbiamo visto intanto attenzione qui che prendono il buco e arriva la meta Civitavecchia abbiamo visto che Civitavecchia stava andando molto bene in questo inizio di tempo Pesaro non è entrata bene non è la giusta mentalità bisogna subito invertire la rotta perché Civitavecchia ha le intenzioni chiare vuole vincere questa partita al morale alto è consapevole che può fare una gran partita e Pesaro non gliela deve concedere perché se no ci potrebbero essere dei problemi risultato che adesso momentaneamente sul 9 a 11 da parte di Civitavecchia vedremo se con il calcio riuscirà ad andare sul 9 a 13 o si rimarrà sempre sul 9 a 11 Sì come abbiamo visto Civitavecchia è entrata ai primi 5 minuti del secondo tempo subito agguerriti subito convinti e subito determinati ad andare a cercare la meta così c'è riuscita ora abbiamo visto l'estremo Civitavecchia a provare la trasformazione calcia ora vedremo palo palo questo è simbolo che il Pesaro non si deve arrestare deve prendere palla andare a testa alta a metà campo e continuare ad attaccare ora cercare loro di segnare una pumeta Sì sarebbe subito importante riprendersi perché questo qui non è stato un buon inizio di tempo non l'ideale per provare a vincere una partita adesso Civitavecchia in vantaggio 9 a 11 subito per cercare di avanzare e recuperare la palla e ricominciare questo secondo tempo come lo si aveva finito buona salita Civitavecchia che prova ad avanzare un po' un po' di difficoltà e infatti è così la palla non esce buono Pesaro subito bisognava ripartire così ed è stato così adesso vedremo se Giubèr deciderà di andare in mezzo ai pali e passare sul 12 a 11 o se puntare al pezzo grosso no si decide di andare per i pali per provare ad andare sul 12 a 11 appunto molto importante e subito per ritornare subito in vantaggio Sì giustissima la scelta secondo me del 10 Pesarese di andare a cercare i tre punti è importante stare sopra al Civitavecchia e tenerli bassi con la mentalità abbiamo visto che andare in tusce è soltanto un vantaggio territoriale con queste condizioni ma è difficile riuscire a concretizzare confermo pienamente abbiamo visto tusce sia dalla parte sia dall'altra molto difficili la palla sguilla quindi giusto l'idea di andare in mezzo ai pali e anche perché si andrebbe in vantaggio e arriva il calcio realizzato 4 su 4 12 a 11 di nuovo in vantaggio serviva questo ed è stato così importantissimo ora Pesaro subito che non deve abbassare la qualità del loro gioco devono tornare subito a giocare e tenere alta l'intensità confermo ancora una volta subito dopo la meta subita c'è stata una bella reazione subito salita salita aggressiva recupero palla calcio in mezzo ai pali si torna in vantaggio e bisogna continuare così con questa mentalità che è la mentalità giusta non quella che abbiamo visto nei primi 5 minuti calcio qua basso Karoli che stoppa prova ad avanzare ed è quello che riesce buona pulizia Boccarossa subito per Giubert che la prende la calcia non viene stoppato calcio difficile adesso questo da prendere lo stoppa ancora una volta lo vedremo molto spesso in questo secondo tempo perché la palla è difficile da prendere con le mani e si rischia di fare avanti si prende il giusto tempo Giubert per calzare per mandarla lontano palla che va fuori però la tiene in campo Civitavecchia sale Tontini sale ancora Civitavecchia un po' in difficoltà ma che comunque riesce a spazzare la Schart che forse non la prende la palla e quindi si ripartirà da una tush da parte di Pesero buona la salita di Tontini che però non è stato accompagnato da nessuno dei suoi compagni peccato perché Civitavecchia lì era abbastanza in difficoltà però comunque adesso la palla è di Pesero e si ripartirà da una tush dai dieci pesaresi sì il trequarti pesarese il trequarti romano che decide di calciare calciare in tush è la la rascerta l'argentino che prova a tenere dentro la palla abbiamo visto trequarti romana che si lamenta e chiede il tocco del giocatore ma invece si rinizierà con una tush da parte del Pesero ecco pronto Stefanini al lancio importante tenere questa tush ed è quello che succede bravissimi giocatori di Pesero che con queste condizioni abbiamo visto anche in precedenza le difficoltà che ci sono state adesso vantaggio chiama vantaggio l'arbitro molto probabilmente ha visto un'irregolarità nel punto di incontro Pesero che adesso prova ad avanzare piano piano Deva che corre storto poi entra guadagna ancora terreno Pesero inizia ad accelerare il calcio di Giubert per andare in profondità lo stop chiamano avanti da panchina pesarese albietro che molto probabilmente non ha visto o non ci ha fatto caso Stura qui ancora a calcio lungolina ed è un bel calcio è un bel calcio perché indietreggia molto Civitavecchia e può salire qui a provare ad andare Civitavecchia Nardini che prende la palla ed è un buon recupero è un buon Pesero e qui i giocatori di Civitavecchia un po' si innervosiscono 10 metri arbitro che vuole mantenere vuole tenere una giusta condotta da parte di entrambe le squadre e Pesero però qui ha fatto una grande azione ha messo in difficoltà Civitavecchia Stura fa un gran calcio indietreggiano tanto recupero palla tenuto e adesso Giubert deciderà di andare per la Tush sì ottima la partita che sta facendo l'estremo argentino Stura e ora è Giubert a cercare un ottimo calcio in Tush ora il pacchetto di mischia pesarese non ha più scuse è arrivato il momento di finalizzare andare a prendere questi 5 punti e lasciare indietro il Civitavecchia bisogna fare mente adesso è importantissimo non bisogna cercare di buttare via queste occasioni che sono le più importanti in una partita così combattuta punto su punto ogni azione fondamentale così come questa Antonelli riesce a prendere la Tush adesso questo è una mulla è una mulla avanzante prova ad andare Pesero che spinge con un po' di difficoltà ma riescono a guadagnare un po' di terreno Stefanini con la palla sono un po' storti arbitro che chiama vantaggio da parte di Pesero importante Boca che deve far uscire la palla punto di si forma un punto di incontro si andrà adesso lì a fare punti su punti di incontro per cercare di avanzare piano piano per prendere un po' di terreno per avvicinarsi a quella linea ricordiamo il vantaggio pesarese in questo momento è ancora altro vantaggio perché c'è placcaggio al collo naturalmente quindi il vantaggio di prima era stato già conseguito comunque vantaggio da parte di Pesero prova ad andare leva che spinge sulle gambe viene portato indietro però sta vicino al centro dei pali fallo da parte di Pesero però non c'era il vantaggio e adesso arbitro che comunica con il capitano di Civita Vecchia si si torna sul vantaggio intanto abbiamo visto il mediano Nicola Buccarossa che preparava il suo pacchetto ora l'arbitro che si reca dal numero 8 del Civita Vecchia mette le mani in tasca e tira fuori un cartellino tira fuori un cartellino credo per la seconda linea del Civita Vecchia ora Pesero non ha più scuse si ritrova in superiorità numerica è il momento questo è il momento giusto per prendere la superiorità del punteggio un uomo in meno in mischia vuol dire tanto soprattutto in questa partita dove abbiamo visto che la mischia è fondamentale il giocatore di Civita Vecchia che passa qui sotto e si lamenta con l'arbitro per la decisione che ha preso molto probabilmente l'arbitro non è d'accordo con lui numero 4 di Civita Vecchia adesso Tusce altra Tusce da parte di Pesero abbiamo visto una bella maul prima e speriamo sia ancora così perché bisogna fare meta altra Tusce perfetta c'è un uomo in più adesso palla che però un po' in difficoltà qui ma comunque rimane lì rimangono lì i giocatori di Pesero che spingono provano ad andare verso la meta la palla che casca in avanti e Civita Vecchia riesce a difendere bene dopo degli errori di Pesero peccato un po' sfortunati qui era importante sicuramente ci saranno altre occasioni adesso comunque ci saranno 10 minuti dove Pesero sarà con un giocatore in più bisognerà sfruttare molto questi 10 minuti e far stancare i giocatori di Civita Vecchia che con un uomo in meno in Mischia faranno molte difficoltà a tenere il ritmo anche con queste condizioni dove il campo è molto pesante i giocatori di Mischia si ritroveranno a correre molto di più intanto vediamo nell'area di meta che l'allenatore Panevolo Panzieri ha mandato a scaldare il pilone classe 2003 a Cerra e l'innesso di quest'anno Bartolomei forse si vedranno dei cambi in prima linea oggi una partita per la Mischia molto intensa a Cerra che rientra dall'infortunio alla spalla ha avuto a inizio anno oggi potrebbe essere la possibilità per ritornare in campo vediamo cosa deciderà il suo allenatore sicuramente come diceva il mio compagno Bonacoscia Mattia bisognerà fare dei cambiamenti in Mischia Mischia che inizia ad essere abbastanza stanca in queste condizioni ancora di più vediamo se verranno prese alcune decisioni adesso intanto Mischia avanzante però calcio a favore di Civitavecchia peccato qua vediamo dalla panchina l'allenatore Panzieri che si lamenta secondo lui non è stato corretto il calcio punizione ma come sappiamo nel rugby sport di grande rispetto la decisione dell'arbitro va rispettata e non possiamo provocare lamentele ora è sempre l'estremo argentino del Civitavecchia a cercare un calcio che non riesce Boccarossa tiene dentro palla capitano Villarosa entra ora Antonelli ottimo sfondare guadagna terreno un ottimo protesting qui non bene il giocatore di Civitavecchia che doveva mandare la palla fuori intanto Franco qui che non lo ferma nessuno lo fermano con difficoltà Carolichetti è la palla che sguilla però non si era il vantaggio si riparte dal punto in cui sarà stato il fallo Villarosa che va dall'arbitro l'arbitro segna il punto in cui c'è stato il fallo sarà a favore di Pesaro intanto vediamo Bartolomei che mi sa sarà il primo giocatore ad entrare c'era già il giubbotto slacciato da quello che sta riscaldando con più intensità vediamo la decisione di Giubert Giubert che preferisce stavolta andare in mezzo di pali altri tre punti ben visto che appunto in tusce due tusce lì sui cinque un po' in difficoltà la palla che sguilla tanto ma è concretizzato meglio tre punti che non averli ora è la natura Panzieri che si reca in campo viene richiamato al guardalinea dato che deve stare dentro la sua area della panchina Panzieri che comunica con il capitano Villarosa staranno cercando dei chiarimenti e cercherà di impostare al meglio il pacchetto di mischia che sta avendo più difficoltà ora silenzio il Totti Patrignani per la trasformazione di Giubert e a cercare questi tre punti veramente importanti Giubert fa 5 su 5 vuol dire 15 a 11 e sono appunto altri tre punti si gioca questa partita così punto su punto intanto arrivano dei cambi da parte della fila pesarese entrerà entrerà di nuovo per la terza volta Venturini al posto di Nardini e poi entrerà Bartolomei al posto di Stefanini ottima partita di entrambi i giocatori Siede di Nardini che è stato molto efficace sull'ala e Stefanini che ha fatto una gran partita dispendiosa anche oggi sono dei cambiamenti Venturini che si sposta sull'ala sinistra la scelta che va sull'ala destra Bartolomei che invece andrà pallonatore si come abbiamo visto l'allenatore Paolo Panzini insieme all'ulti manager Marco Bonacos ci sono recati a centrocampo per effettuare i cambi è rientrato Gabriele Venturini volevo sottolineare Gabriele Venturini anche lui quest'anno insieme a Stefanini classe 2003 presente nella formazione del peso del rugby rientrato dopo due anni alla quale ha avuto l'opportunità di partecipare all'Accademia Federale di Prato e ha compiuto lì il suo percorso degli ultimi due anni giovanili sicuramente farà la differenza la sua esperienza nei tre quarti per quanto sia giovane un giocatore da grandi ambizioni intanto qui non riesce a tenere la palla a calore e a rilettare le mani vuol dire che Cevitavecchia ha recuperato la palla e adesso si è lì nei 22 Erbolini che però non può prendere la palla perché a terra non era sugli appoggi Cevitavecchia che continua ad andare prova ad insistere prova ad andare verso la meta un po' a rilento non tutti stretti qui Erbolini che manca un po' il placcaggio Cevitavecchia prova ad accelerare adesso placcaggio raddoppiato sia da Palletta sia da Venturini Cevitavecchia insiste prova ad avanzare prova ad andare è buona però la salita difensiva di Pesaro che li sta portando indietro un po' alla volta però Cevitavecchia non era più avanzante come prima adesso e guadagnano terreno prova ad andare arbitro che fischia fallo battuta veloce accelera Cevitavecchia forse quello lì ho sentito Bocca Rossa che urlava per un possibile velo Cevitavecchia riesce a far uscire la palla stanno accelerando tanto in questo momento è buono però il placcaggio di Palletta che lo tiene lì altro fallo secondo fallo di fila da parte di Pesaro adesso Cevitavecchia che preferisce andare con calma e vediamo la decisione che prenderanno se andare in mezzo ai pali o se andare in tusche Cevitavecchia riparte subito sempre molto aggressiva vediamo i ragazzi fuori che continuano a incitare i ragazzi al gioco veloce forse sta facendo la differenza proprio quello Cevitavecchia sta decidendo di non andare mai in tusche perché ha notato la difficoltà della concretizzazione di essa ma sta decidendo sempre di giocare veloce sta mettendo veramente in vera difficoltà il pacchetto pesarese che è sempre costretto a indietreggiare sì Cevitavecchia sembra che quando acceleri possa mettere in qualsiasi momento in difficoltà la difesa pesarese anche se comunque sta tenendo molto bene adesso calcio in mezzo ai pali per cercare di stargli lì punto su punto e non rischiare di andare in tusche e poi perdere punti calcio realizzato e adesso 15 pesano 14 Cevitavecchia un punto li separa partita molto equilibrata molto combattuta con delle situazioni non facili e intanto arrivano altri cambi vediamo nella metà campo sempre i cambi disponibili entra l'altro argentino Juan a dare il cambio all'ottima partita di Leonardo Venturini un ragazzo che è presente nel Pesaro sin dalle giovanili che anche oggi ha disputato una grandissima partita si entra a Schu al posto di Venturini arrivano anche dei cambi da parte di Civitavecchia entrano con il numero 20 Orchi e poi con il numero 19 Guarise escono invece con il numero 8 Onofri e non ho capito invece chi è l'altro giocatore ad essere uscito perché non lo vedo sono entrati due ma l'ho visto uno uscire tanto ci sono delle problematiche con l'arbitro con i comandi intanto si riparte con un drop da parte di Pesaro grande accelerazione qui non lo ferma nessuno grande accelerazione ha guadagnato tanto terreno nessuno l'ha fermato intanto qui un po' di difficoltà nel punto di incontro fallo di Asshua che ha commesso un'irregolarità nella rack adesso calcio per Civitavecchia che sta andando molto bene intanto c'è stato un grave errore dalla terna arbitrale che si rese soltanto contora che il Civitavecchia non ha fatto uscire l'altro giocatore ne ha fatto entrare due ma ne è uscito soltanto uno gravissimo errore per la terna arbitrale questo eh sì adesso intanto siamo alla metà del tempo ventesimo minuto 15 a 14 potrebbe succedere qualsiasi cosa ora si gioca davvero sui dettagli qualsiasi cosa può cadere può essere determinante per questa partita che abbiamo visto essere complicata stressante per entrambe le squadre che si stanno giocando in punti importanti per la classifica vediamo intanto l'allenatore Panzieri che richiede il restart giustamente un errore così veramente eclatante il 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 pacchetto del Civitavecchia che va a giocare in 16 in campo quando il campo si gioca soltanto in 15 l'allenatore Panzieri qua sotto di noi che è veramente arrabbiato chiede il restart nel gioco ora si rinizierà appunto con un cambio di calcio appunto per questo errore però a favore di Pesero ora Giuberto a cercare il calcio di punizione verso la clubhouse pesarese si un errore abbastanza clamoroso e anche si vede veramente poche volte giustamente adesso palla riconsegnata a Pesero che si avvicinano discussioni molto accese tra tra i due allenatori qui sotto sotto la nostra postazione adesso però intanto noi commentiamo la partita si ripartirà da una tush sui 22 da parte di Pesero la prima per Bartolomei dopo che è entrato in campo vediamo la sua tush la palla viene recuperata da Civitavecchia la palla rimane indietro anche se abbiamo visto il loro giocatore un po' in difficoltà nel tenerla l'arbitro che però fischia avanti avanti la palla è di Pesero si ottimo ottimo il recupero nonostante abbiamo perso la tush ora abbiamo la possibilità di ripartire con una mischia poco dentro la linea 22 del Civitavecchia ora è il momento veramente di concretizzare non ci possiamo più permettere errori Pesero ha bisogno di prendere questo distacco per lasciare un attimo i giocatori del Civitavecchia indietro si appunto come ripetiamo quando si è lì bisogna sempre concretizzare tante volte Pesero non è riuscito a concretizzare anche se comunque sono arrivati sempre a dei calci di punizioni a favore realizzati poi da da Giubert anche se comunque adesso davvero sarebbe importante fare una meta perché allungherebbe Pesero la palla esce con un po' di difficoltà ma esce Erbolini prova ad andare avanti punto di incontro si gioca molto lenti entra qui Franco che prende un bel buco difficilmente lo fermano avanza tanto la palla che però esplode e Civitavecchia la recupera gran peccato perché qua poteva essere un'occasione molto pericolosa qui adesso Pesero che è costretto ad indireggiare Venturini che recupera riesce a superare il giocatore di Civitavecchia vedendo un po' di terreno Venturini che spinge sulle gambe molto bravo perché è riuscito a far rientrare i suoi giocatori e qui fallo da parte di Civitavecchia e adesso si ripartirà con un calcio a favore di Pesero e non è il primo che vediamo in un punto di incontro di falli gioco con sempre più errori infatti ora l'allenatore Ponzieri ha mandato a scaldare tutta la sua panchina in panchina sono andate a scaldarsi a Cerra dal Pozzo Giuari Cardellini e De Angelis si provvedono dei cambi ora Giuberti che trova un ottimo un ottimo calcio a pochi metri dalla linea di meta intanto ci sono dei problemi per Franco che abbiamo visto a terra casciato il gioco viene fermato comunque Giuberti ha fatto intanto un grandissimo calcio guardando davvero tanto tanto terreno adesso se Franco non ce la dovesse fare potrebbe entrare a Cerra appunto il suo rientro e poi l'infortunio per fortuna per Franco non è niente ha soltanto fango negli occhi cosa normalissima in queste condizioni infatti vediamo i ragazzi della panchina che gli mettono l'acqua per sciacquagli viso comunque una partita veramente intensa per lui infatti credo nel cambio perché la prima linea pesarese inizia veramente a subire la stanchezza Franco che sta facendo un'ottima partita determinante quando la palla anche in difesa uno tra i migliori nelle file pesaresi una buonissima partita una sezione in crescendo per lui il giocatore argentino arrivato quest'anno adesso pesare lì ancora una volta sempre lì buona la molle avanzante qui pesaro che prova a spingere sono molto vicini sono molto vicini anche se adesso vanno un po' indietro vantaggio però per pesaro è importante adesso prova a spingere pesaro un po' di difficoltà lì nella palla che esce vedo anche un po' di scontri tra parte dei giocatori avanza qui altri metri guadagnati piano piano siamo lì si è molto vicini manca molto poco la palla che va a largo dove c'è Erbolini che prova da muovere a largo dove c'è Larshardt che rientra Larshardt si tuffa la meta di Larshardt una meta fondamentale in un momento della partita molto complicato arriva la meta sul 20 a 14 e adesso c'è Vita Vecchia che fa la difficoltà a riprendersi perché è una meta molto molto brutta da digerire è importantissimo pesaro l'ha studiata molto bene una bellissima molle fin dall'inizio dei buoni treni che piano piano hanno avvicinato pesaro sulla meta poi dopo palla a largo meta per Larshardt anche lui oggi sta facendo una bellissima partita si vuole fare complimenti anche a Boccarossa che ha strutturato il gioco pesarese veramente in modo eccellente ha tenuto la difesa romana attaccata al punto d'incontro con tre fasi e poi ha deciso di giocare all'esterno con Giubert caricato palla a Erbolini Erbolini ha finalmente concretizzato con un ottimo pallone sull'Arashhardt che è riuscito a finalizzare con una meta che ha messo ora vedremo se metterà veramente in difficoltà la formazione del Civita Vecchia adesso vediamo se Giubert riuscirà a fare il sesto calcio su sei e mettere altri punti sul tabellino e andare sul 22 a 14 o rimanere sul 20 a 14 il calcio e c'è anche questo Giubert oggi impeccabile non ha sbagliato un calcio letteralmente un calcio nonostante una situazione molto difficile perché il campo con questo campo è difficile anche calciare poi con il vento tutto quanto Giubert veramente bravo anche lui oggi e adesso Civita Vecchia che dovrà riprendersi dopo questa batosta 8 punti di distacco e 8 punti che vogliono dire una montagna da scalare guardando la partita che è stata molto combattuta fino adesso e adesso 8 punti possono essere pesanti da recuperare a 15 minuti dalla fine qui intanto Caroli che spinge sulle gambe prova ad avanzare la palla che esce dove c'è Giubert intanto qui la pioggia è aumentata ancora di più lo stop il calcio per provare ad andare lontano dove però c'è Giubert ancora una volta ancora il calcio e gli sta diventando un ping pong e all'avanti e questo è un avanti veramente molto molto brutto da fare perché sottolinea come in questo momento Civita Vecchia sia un po' in difficoltà e intanto si preparano i due piloni di Pesaro a Cerra e dal Pozzo e dal Pozzo ad entrare in campo forze fresche per Pesaro arrivano anche Jauri e Cardellini quattro cami per Pesaro si entrano in prima linea due annesti molto giovani come ripeto a Cerra classe 2003 proveniente anche lui da Roma forse per lui un derby viene dall'Accademia di Roma e le giovanili nel Capitolina insieme accompagnato da Dal Pozzo un ragazzo delle zone di Ravenna e poi abbiamo seconda coppia Cardellini e Juari due ragazzi invece con tantissima tantissima esperienza alle loro spalle due ragazzi che giocano qua dai tempi della serie B e hanno avuto l'occasione di vedere questa squadra crescere sempre di più il tempo è fermo perché ci sono dei problemi tra gli arbitri naturalmente a livello di comunicazioni che non riescono a comunicare bene con i loro dispositivi tanto i giocatori che parlano tra di loro si scaldano per cercare di tenersi caldi e non raffreddarsi in questo clima veramente gelido quasi polare adesso problemi che si risolvono cercano di risolverli ancora in realtà giocatori di Pesaro che intanto si stanno continuando a scaldare prima di rientrare in campo giocatori che non si fermano abbiamo visto come Pesaro dopo la battosta iniziale di questo tempo è riuscito subito a reagire è subito tornata in carreggiata sulla giusta via e infatti ha messo tanto in difficoltà Civitavecchia in questo secondo tempo sempre nella metà campo di Civitavecchia era questo l'obiettivo che stanno riuscendo a compierlo e bisognerebbe finire questa partita in questo modo tanto movimento da parte di giocatori sanno che se si fermano poi dopo sono grossi problemi a livello muscolare anche i giocatori in panchina si stanno scaldando sia da una parte sia dall'altra un gioco rotto da quello che stiamo cercando di capire anche noi per problemi di comunicazione tra la terna arbitrale che ha problemi con le radio ora vediamo non so perché il guardaline del lato della nostra tribuna dentro campo comunicare con i ragazzi e vedo invece la mancanza dell'arbitro di campo con i ragazzi si in questo momento manca l'arbitro non è in campo non è presente quindi giustamente il gioco non può riprendere per cercare di risolvere questi problemi che si sono verificati in questo momento preciso dalla partita si abbiamo scoperto che l'arbitro è andato a cambiare batterie della radio che non erano in collegamento con gli altri arbitri ora vediamo l'allenatore Panzieri che comunica al team manager Buonacoscia il cambio non sappiamo ancora di chi ma l'entrata di Juari Sman Juari questo ragazzo appunto ormai da tantissimo tempo qui con noi nel settore del Pesaro tanto eccolo qui l'arbitro che rientra in campo nel momento in cui la pioggia sta diventando davvero battente in questo secondo tempo pioggia che non si è mai fermata sempre aumentata l'intensità forse quando sei in campo manco te ne rendi più conto dopo che ti sei abitato a giocare con la pioggia adesso l'arbitro che ha risolto i suoi problemi e si ritorna a giocare i giocatori che non si sono mai fermati in questo stop appunto per rimanere caldi adesso si riparte da una mischia a favore di Pesaro dopo che c'era stato un fallo appunto da parte di Civita Vecchia bisogna tenere questa mischia bisogna fare uscire la palla e avanzare per tornare subito sotto dove c'è la meta mischia avanzante da parte di Pesaro Civita Vecchia un po' in difficoltà la palla esce molto bene però Boccarossa è passato abbastanza sporco Palletta riesce ad andare avanzato il terreno fallo però da parte di Civita Vecchia l'ennesimo fallo perché non è la prima volta che lo vediamo tanti falli fischiati forse un altro giallo potrebbe potrebbe ripresentarsi sì abbiamo visto tantissimi falli da parte di Civita Vecchia adesso non per dire ma sicuramente la differenza la fa la disciplina in queste partite in queste partite la squadra che riesce a tenere più disciplina è la squadra che avrà miglior vantaggio ora vediamo pronto Gioari che sta per entrare finalmente e rientrerà per ripartire in questa tush all'interno appena all'interno dei 22 del Civita Vecchia Smile pronto insieme ad Acerra Cardellini dal Pozzo e De Angelis tutti i cinque insieme forze fresche per la Pesaro Rugby mi viene da dire che nei tre quarti usciranno Bocca Rossa e Stura tanto poi dopo esce anche il capitano Carlo Villarosa per Smile entra poi Acerra che appunto rientra dall'infortunio un grosso in bocca al lupo per lui ragazzo molto giovane esce l'Eva autore di una grande bella prestazione parte sua che anche oggi si dimostra un giocatore fondamentale per Pesaro esce poi anche l'altro pilone Franco anche lui forse mi viene da dire anche il migliore in campo entra dal Pozzo tanto Cardellini e De Angelis invece che ritardano la loro entrata in campo ma avverrà a breve se mi posso permetter sì volevo concordare con appunto il mio compagno Tontini Giacomo che Franco ha disputato un'ottima partita forse uno dei migliori giocatori in campo anche proprio nei 30 giocatori presenti in campo veramente uno dei migliori ottima partita per lui ora è Pesaro che sta avanzando insistente con il pacchetto di mischia ora è Boccarossa che cerca di sistemare i ragazzi subito pala per Juari che entra trova un buon angolo e guadagna qualche metro possesso per lui Pesaro che ha fatto difficoltà un po' in tuscia perché la palla è un po' sguigliata intanto qui Giubert che calcia c'è paletta la schiaccia l'ha annullata fortunatamente per lui però qui Pesaro ha provato ad essere avanzante adesso si provano si devono rischiarare subito qui è un calcio abbastanza molto rischioso perché il giocatore di Civitavecchia è isolato è da solo non concordo con la scelta del giocatore di Civitavecchia anche se comunque la palla riesce a rimanere per loro molto rischioso questa scelta sì voglio un attimo sottolineare appunto questa nuova regola appunto entrata da quest'anno 2022-2023 abbiamo visto il giocatore numero 10 sudafricano la Jubert effettuare un calcetto all'interno dell'area di meta la palla è stata portata all'interno dalla formazione pesarese annullata da un giocatore invece del Civitavecchia e da quest'anno la regola impone un calcio un drop line un calcio dalla linea di meta in cui abbiamo visto il giocatore romano effettuare un calcio a pochi metri ma soprattutto in diagonale per il compagno che l'ha messo veramente in difficoltà essendo da solo e non avendo spazio per una ripresa e ora riprendiamo con una mischia a favore del Civitavecchia subito lì a 5 metri e intanto abbiamo visto l'entrata anche di De Angelis posizionato al ruolo di Ala e l'entrata di Cardellini che metterà un po' di esperienza al posto del mediano in mischia Nicola Boccarossa esattamente due cambi gli ultimi due cambi da parte di Pesaro De Angelis al posto di Lars Hart autore della meta fondamentale in questo momento per questa partita e poi Cardellini al posto di Nicola Boccarossa che come diceva appunto Mattia tanta esperienza dal canto suo adesso qui mischia avanzante da parte di Civitavecchia che si prendono pure un fallo importante per loro perché escono da una brutta situazione che si era formata e possono andare il più lontano possibile e avvicinarsi alla meta contando che devono recuperare otto punti e servirebbe una meta realizzata più un altro calcio o meta qui riesce a tenere la palla in campo con Venturini che viene placcato ma comunque la palla la tiene un po' di difficoltà in questo punto di incontro Caroli che riesce rientra molto bene guadagna tanto terreno Ascio che fa uscire la palla un po' di difficoltà un po' di confusione in questo momento bisognerebbe rallentare un attimo riposizionarsi per cercare di capire cosa fare e decido di calzare i pesaresi e di avanzare Antonelli avanza molto bene però non è sostenuto da nessuno e si crea un buco tanto qui Cardellini fa un bellissimo placasso insieme a paletta e la palla viene tenuta e infatti viene presa la palla ottimo ottima salita dalla parte di Pesaro e ottimo recupero e adesso vediamo che cosa diciederà Giubert se andare in mezzo dei pali o puntare a un calcio in tusce ma mi sembra che la scelta sia ovvia andare in mezzo dei pali sì sì questa è stata un'ottima azione infatti abbiamo visto la panchina pesarese esaltarsi e questo forse ha fatto la differenza di queste nuove entrate più fresche ora Giubert che andrà a cercare di fare il settimo su settimo se non mi sbaglio e vediamo cosa succederà la distanza di poco meno di 40 metri forse 36 metri 37 metri centrale ai pali la pioggia sta calando il vento anche difficile sarà soltanto il piede d'appoggio per il numero 10 Giubert e la palla pesante deve stare concentrato e la squadra pesarese invece deve essere pronta a portare pressione perché comunque rimane gioco calcio importante perché ci andrebbe sul risultato di 25-14 sarebbero 11 punti di ristacco a 5 minuti dalla fine della partita vediamo un po' la palla che non entra è fuori e quindi il primo calcio non realizzato da parte di Giubert si rimane sullo stesso risultato peccato perché poteva essere una grossa occasione per blindare definitivamente il risultato anche se comunque abbiamo visto che 8 punti sono difficili da recuperare perché Civita Vecchia ci sta mettendo tanto e non riesce ad andare nella linea di metà di Pesaro però comunque la partita è sempre aperta e può succedere di tutto si ripartirà da un calcio dei 22 intanto però ci sono dei cambi a parte di di Civita Vecchia e entrerà il numero 22 Olivieri al posto del numero 16 del tramino del tramino anche lui tra i migliori nel Civita Vecchia tanto qui la palla che si ferma Caroli che viene placcato però la palla se l'ha comunque lui con molta calma Pesaro fa uscire la palla dal posto che avanza tantissimo ed è una buona progressione da parte del nuovo entrato palla che esce un po' male però comunque ha un po' di difficoltà Smai prova a pestare sulle gambe e avanza tantissimo c'è un vantaggio per un placcaggio al collo palla che viene calzata va comunque qui Pesaro Antonelli che spinge si avvicinano sempre di più altro placcaggio al collo questo non visto dall'arbitro c'è la superiorità numerica Giubbert che gli scivola le palla tra le mani la palla tra le mani arbitro che fischia si riprenderà con un calcio di punizione gli chiedono nel punto in cui si vuole ripartire Paletta che adesso è capitano dopo che è uscito Villarosa vediamo la scelta dei giocatori pesaresi se andare in tush o in mezzo ai pali e la scelta è in mezzo ai pali e adesso bisogna realizzarlo questo calcio molto vicino e appunto andare sul 25 a 14 a 3 minuti anzi a 2 minuti dalla fine ormai risultato che sembra essere in cassaforte Giubbert per mettere altri tre punti sul tabellino e riprendersi dopo il calcio sbagliato in precedenza il primo calcio sbagliato della partita da parte sua ovviamente bisogna dire che ha rispetto tanti calci importantissimi in questa partita partita sicuramente faticosa per il pieno di destra di Giubbert che ha effettuato veramente tanti calci ora vediamo cosa succederà nel primo tempo ha effettuato anche da qui un calcio di punizione ed è andato bene ha avuto un buon risultato vediamo adesso cosa succede continua il silenzio al totipratignani ecco Giubbert che effettua il calcio un ottimo calcio e riesce a prendere tre punti e riesce ancora sempre più a sigillare il risultato da Pesaro Rugby in casa che risulta sempre più imbattibile 25-14 quindi adesso il risultato a pochi minuti dalla fine è importantissimo che blinda appunto il risultato e questo potrebbe significare vittoria da parte di Pesaro ovviamente bisogna aspettare sempre il fischio finale Civitavecchia che adesso prova a risalire Caroli che prende la palla avanza spinge placcaggio ancora al collo arbitro lo vede fischia e non è il primo placcaggio al collo da parte dei giocatori di Civitavecchia vorrei far notare sempre sul numero 5 Caroli secondo placcaggio al collo infatti chiede spiegazione anche al ragazzo dice qual è il motivo di questi placcaggi così alti ora Giuberti che deve trovare un calcio non per forza lungo ma sicuramente sicuro e garantire un'ottima tusce adesso vediamo un calcio abbastanza sicuro rispetto al precedenza che ha fatto degli ottimi calci in tusce sempre molto lunghi per cercare di guadagnare terreno adesso invece un calcio un po' più corto per metterla sicura e cercare di far tenere sui giocatori il pallone e poi terminare questa partita che appunto manca siamo al tempo rosso siamo al quarantesimo in questo momento quindi la palla appena andrà fuori l'arbitro fischierà la fine della partita ottima tusce da parte di pesaro che vanno con la molle e avanzano tanto cartellini che chiede la palla la butta fuori l'arbitro fischia la fine della partita a pesaro sotto la pioggia battente finisce 25-14 in una partita molto molto equilibrata molto combattuta ma dove nel secondo tempo pesaro ha avuto la meglio e ha dimostrato di essere più forte sono punti importanti sono quattro punti importanti che servivano per iniziare molto bene questo anno si ovvio una grandissima partita in cui la disciplina ha fatto la differenza abbiamo visto un pesaro più disciplinato a confronto della squadra romana ottimo risultato che va a chiudere appunto il girone di andata e la prima partita di questo 2023 buoni presupposti per questo anno faccio un complimenti a tutti questi giocatori perché hanno giocato in condizioni molto difficili e bisogna sicuramente appunto fargli complimenti e noi vi salutiamo e ci rivediamo alla prossima partita molto contenti del risultato abbiamo vinto è una grande prestazione dei ragazzi sotto la prova caratteriale con con il campo che era praticamente allagato è stata una vera e propria battaglia hanno tirato fuori i cosiddetti attributi hanno fatto vedere che ci tenevano un sacco a portare a casa questo risultato e bisogna fare complimenti dal primo al ventitresimo che sono entrati in campo terza partita da allenatore per Paolo Panzieri vuoi fare anche non so un bilancio su come sono andate le parti finora e qualche pronostico sul resto della stagione beh fino ad ora le partite direi benissimo perché su 15 punti che potevamo portare a casa ne abbiamo presi 14 3 vittorie 2 col bonus questa di oggi senza ma era chiedere troppo molto bene i ragazzi sono assolutamente contenti del lavoro che stiamo facendo ringrazio la società lo staff il preparatore JT che durante queste vacanze li ha tenuti tutti in forma inizia il girone di ritorno vogliamo vogliamo rimanere su questa lunghezza d'onda quindi consolidare la nostra posizione provare a fare anche meglio insediare il quarto posto perché sento che i ragazzi hanno le capacità per stare sotto quelle tre sarà difficile molto perché ci aspetta la prima partita con la Lazio la prossima in casa che non ha mai perso e poi ci aspettano tre partite di fila fuori due volte a Roma una a Livorno e sarà un bel banco di prova per vedere i ragazzi a che punto sono e a che punto siamo anche noi però sono fiducioso e possiamo fare bene per il resto della stagione grazie